Buongiorno, ben ritrovati. Oggi ci occupiamo del peggioramento e dell'ondata di caldo di questo fine settimana e diamo anche uno sguardo fino alla metà del nuovo mese di luglio, ormai ai nastri di partenza. Dunque, situazione attuale, l'alta pressione sta rimontando, quindi assaporeremo una fase stabile, soleggiata, ma anche con un progressivo rialzo della temperatura per via di queste masse d'aria molto calde di estazione subtropicale che vanno a interessare ancora una volta le nostre regioni. Sono soprattutto le regioni del centro-sud maggiormente coinvolte dall'ondata di caldo. Nel corso di questo prossimo fine settimana potremo raggiungere anche valori di 36-38 gradi, ma il caldo si farà sentire anche al nord, che poi è una zona che fino a questo momento dell'estate è stata, diciamo, graziata dalle ondate di caldo intense. C'è da dire che queste ondate di caldo non sono particolarmente a durature in Italia, complice una corrente oggetto ancora abbastanza attiva, di conseguenza non ci sono quelle configurazioni tali per cui le fasi di blocco generano quelle fasi molto lunghe e prolungate di caldo anovolo. Quindi questo va e viene di ondate di caldo ha caratterizzato finora, possiamo dire, questa parte di estate, ma vedremo come anche nella prossima, in questa nuova settimana, questa ondate di caldo avrà vita breve. Intanto l'immagine satellitare ci mostra un'Italia completamente libera da nuvolosità significativa, al parte qualche addensamento basso, ma si vede in sottofondo anche l'arrivo della nuova massa di polvere dal deserto del Sahara. Questa è ovviamente una delle conseguenze dello sviluppo di questo anticinone subtropicale, che tende non solo a portare quindi queste masse d'aria calda, ma trasporta con sé anche la polvere dal deserto del Sahara. Temperature che dunque aumentano, questa situazione è prevista per sabato, con le anomalie di 8,50 che evidenziano il surplus termico a 1.500 metri di quota circa. Questa massa d'aria calda accompagna anche l'evoluzione di un sistema nuvoloso che andrà anche ad interessare buona parte dell'Europa centro-occidentale, ma anche la nostra penisola, soprattutto nella giornata di sabato. Su questo ci ritorniamo. Mettiamo anche in evidenza il fatto che sulla Nord Africa questa massa d'aria calda, molto calda, si accompagna anche a temperature elevate. In Algeria la temperatura nel corso delle ultime ore ha superato la soglia di 50 gradi, che probabilmente è il nuovo record mensile per quanto riguarda l'Algeria. Su questo poi ci ritorneremo attraverso degli specifici approfondimenti. Quindi non è solo caldo, dicevamo, che caratterizza dunque questo fine settimana, ma ci sono anche dei temporali, temporali che probabilmente con ogni probabilità c'è un buon grado di confidenza che possono essere intensi, soprattutto al nord-ovest. Il motivo è dovuto al fatto che questo promontorio che si associa, ecco vedete, questo promontorio che si associa, c'è anche un'onda corta che si sviluppa in seno a questa saccatura nord-atlantico, che mantiene in vita questa sorta di configurazione atomica, questa saccatura, questa onda corta, tende a ruotare verso nord-est, interessando di conseguenza dopo la Spagna, anche la Francia, la fascia alpina, e in pratica poi si muoverà verso nord-est. Si sovrappone ad una massa d'aria molto calda, quindi anche caratterizzata da un gradiente termico verticale piuttosto pronunciato, quindi superadiabatico, e quindi è una massa d'aria anche particolarmente instabile, quindi è propensa ai moti verticali atmosferici. Il passaggio di questo mullinello vorticoso in seno a questa onda corta non farà altro che provocare un effetto di triggering dei moti convettivi, dunque la possibilità dello sviluppo di sistemi temporaleschi a largo spettro. Quindi possiamo anche attenderci la formazione non solo di fenomeni multicellari, ma anche di fenomeni particolarmente violenti come le supercelle, in particolare le zone maggiormente coinvolte dovrebbero essere la Spagna sudorientale, poi la Francia, in particolare la Francia orientale, ma anche poi la Svizzera, la Germania, nel momento in cui prosegue questo mullinello, questa saccatura si muove verso nord-est, e anche c'è da tenere in considerazione anche il nord-ovest italiano, quindi c'è anche la possibilità che anche il nostro settore di nord-ovest possa essere interessato da fenomeni particolarmente intensi. Ancora una volta c'è da mettere in evidenza come questa massa d'aria abbia un alto e elevato valore di stabilità convettiva, il Cape Shear, quindi questa doppia variabile tra l'energia potenziale di disposizione più l'uscita del vento, che ci fa vedere come questo vento varia rapidamente con la quota, ecco questa variabile c'è un'indicazione di questa massa d'aria particolarmente instabile. Dunque lungo questo corridoio dalla Spagna sudorientale, attraverso la Francia orientale, il nord Italia e la Germania, si possono sviluppare delle celle temporalesche particolarmente intense, e quindi anche produttrici di grandine, che ovviamente richiede per lo sviluppo della grandine intensa, soprattutto richiede come ingrediente necessaria il Cape, quindi l'energia potenziale di disposizione, questa energia più l'uscita del vento. Quindi sono elementi fondamentali per avere una buona possibilità, un'altra possibilità che si possono verificare temporali con grandine intensa. Questo viene dato soprattutto nella giornata di sabato sera per quanto riguarda il nord Italia. Poi questa massa d'aria si accompagna ancora una volta ad un flusso di vapore particolarmente intenso. L'EFI Index ci mostra come questa massa d'aria per il periodo ovviamente è caratterizzata da un alto valore di vapore e il vapore sappiamo che fornisce energia ai sistemi perturbati, anche ovviamente alle celle convettive. Mentre per quanto riguarda il resto d'Italia la situazione rimarrà invariata, quindi con un caldo intenso soprattutto al centro sud. Immagine che mostra appunto l'onda corta che si muove dalla Spagna, qui, eccola qui, siamo in alta troposfera, e notate come la vorticità potenziale si arqua, diciamo che ruota intorno al proprio asse, e poi in serata tenderà a transitare tra la Francia, la Svizzera e il nord Italia, poi muoversi verso Levante. Poi successivamente che cosa accadrà? Accadrà che l'anticiclone verrà eroso da questo flusso di correnti più fresche dal nord atlantico, quindi arriviamo a metà della settimana, che possiamo focalizzare grossomoro la tendenza termica, della unione termica, proprio dopo il tramartire e mercoledì, quando l'aria fresca avrà raggiunto anche il sud Italia, e avrà quindi messo alle corde l'ondata di caldo, che si allontanerà verso Levante. Quindi possiamo notare come la prima settimana del mese di luglio possa essere caratterizzata da temperature sotto la media. Poi è possibile che questa tendenza al raffreddamento di questa settimana possa essere limata dalla nuova versione d'aria calda, perché l'anticiclone sembra di nuovo conquistare spazio sul fine della settimana prossima, quindi ad andare a interessare con una nuova andata di caldo le regioni del centro-sud, quindi limando questo rialzo termico, che invece sarà la caratteristica dei primi giorni del mese di luglio. Quindi possiamo dire che grossomodo anche il mese di luglio inizierà con questa difficoltà, le massi ad aria calda, di stazionare per più giorni sul bacino emiterraneo ed essere messe alle corde da queste sfuriate d'aria più fresca che vanno a limare il rialzo termico. Per il momento ci fermiamo qui, poi vediamo un po' nei prossimi giorni dare maggiori dettagli sul lungo termine. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.